Siamo con Federico Motta, Brianzolo di Briosco, sceneggiatore, oggi qui al microfoni di TWS114 per ricordare e per parlare delle sue iniziative cinematografiche. La più importante finora qual è stata? Beh, allora, direi che per ora, cinematograficamente parlando, è stata la mia partecipazione alla revisione della sceneggiatura di The Finder, un corto di Francesco Dell'Oro e Paolo Sandionigi, che mi hanno portato un po' in questa crew lecchese con cui sto collaborando e con cui stiamo preparando particolari lavori che vedrete in seguito. Quali possiamo anticipare qualcosa di questi prossimi lavori? Allora, non molto perché comunque sono progetti che vanno presentati e devono avere un certo riservo, però comunque abbiamo in cantiere un posto apocalittico, un fantasy e altri racconti sul territorio lecchese che vogliamo appunto portare in scena nel modo migliore, come si merita questo bel paesaggio e questa bella realtà. È vero che c'è uno spazio sempre maggiore in questo filmato ritenuto minore, questo piccolo cinema, delle piccole case cinematografiche? Assolutamente, poi io ovviamente porto la mia parte di sceneggiatore e di autore perché sono anche appunto uno scrittore e si sta dando molto più spazio alle realtà più piccole e ci sono sempre più possibilità di mettere in scena delle storie sempre nuove e non solo dai soliti canali distributivi, insomma. Quindi sì, c'è fervore nel raccontare le storie ultimamente. Diciamo qualcosa dell'attività di scrittore, quale pubblicazioni, quali libri, uno in particolare penso meriti di essere ricordato. Assolutamente, io ho scritto il mio primo libro nel 2021 con la casa editrice Pave Dizioni che si chiama Le ombre del crepuscolo, è una raccolta di dieci racconti a tema palpe thriller molti dei quali appunto hanno un'ambientazione lacustre come quella in cui sono oggi e ho in serbo anche un fantasy che sto presentando a delle varie case editrici per cui mi aspetto appunto una pubblicazione nei prossimi anni. Cercate nuovi volti per il cinema, nuovi volti di giovani, di ragazze per future interpretazioni o realizzazioni? Assolutamente, come ho detto abbiamo vari progetti in ballo e in questi progetti ci sarà spazio per nuovi volti sempre diversi e con un occhio aperto verso l'inclusività a tutti. Abbiamo parlato del crepuscolo sul lago, questa mattina è una mattina di incerto chiarore, ricorda il crepuscolo sul lago sul lago in autunno il buio scende in anticipati merigi però è anticipo di una rinnovata primavera e voi auspicate questo? Assolutamente, le storie più interessanti a mio modo di vedere sono quelle in cui non c'è sempre una luce forte ma si creano degli ottimi giochi di ombre che creano appunto una varietà di storie diversa e sempre più interessante.